Cibo, cibo e ancora cibo. Oggi lo vediamo ovunque ad andare. Per la maggiore sono i ristoranti sofisticati, gli chef stellati, i piatti gourmet. Il food porn è ormai un fenomeno dilagante e forse è diventato status ancora più della moda. E se da un lato della medaglia c'è il lusso, dall'altra c'è la vera personalità di ognuno di noi. Con le sue fotografie spesso di junk food, Martin Parr ci racconta un mondo che più che prodotti alimentari acquista la pubblicità di questi prodotti. Mangiamo propaganda, ma le apparenze ingannano e tutto quel luccicante cibo che acquistiamo poi a un altro volto. Non è fantastico come crediamo e non siamo fantastici noi mentre lo consumiamo. Non è tutto oro quello che luccica.